Ehi ragazzi, un saluto da Chisinau, oggi sono a Chisinau e vi devo parlare dei prossimi viaggi che sta organizzando la Adelina Coilaria. Come stanno andando i viaggi di maggio? Stanno andando molto bene, ci sono già tante persone. In maggio quante sono? Fai vedere un po'. Sono 40 persone, con transfer e senza transfer. Questo lotto? Tutti questi in verde, esatto. Spazio ce n'è ancora per lotto? Sì, ce ne sono ancora un paio di posti. Un paio di posti. Poi ricordate che c'è l'altro viaggio di gruppo che parte con Fly One a maggio da Parma il 22 al 29 maggio, che abbiamo già biglietti acquistati. Ok, chi viene per la prima volta? Che regali c'è stavolta? Un sacco. Un sacco di regali? Un sacco di regali. Ok, no, il regalo è il tampone. Il tampone gratuito a ritorno. Chi lo paga? Noi, la clinica, la Sestrisno Dentale. Non paghiamo noi, quindi ricordatevi solo per chi viaggia nel viaggio di gruppo da Parma l'8 oppure il 22. E se uno deve fare i denti definitivi? Ha un altro regalo, un altro gran regalo. Ehi, troppi regali a maggio. Ragazzi, troppi regali. Il regalo è che stai... Stai 14 giorni, ma paghi 10 giorni di appartamento, di alloggio. Ok, e consigliamo comunque di stare due settimane se devi fare la tappa definitiva. Quindi ricordatevi che a maggio ci vediamo qua a Chisina. Io sì, sto anche a Bucharest, ma faccio avanti e indietro. A Bucharest, ricordatevi che avete il vantaggio di avere più connessioni aerei per chi è indicato a Bucharest. Per quei pazienti che devono fare la prima tappa, la chirurgia. La chirurgia e vivono magari in Piemonte, in Puglia, Roma, magari Veneto. Quelle regioni che non hanno queste grandi connessioni in questo periodo con la Moldavia. Allora, in quel caso il consiglio è di venire a Bucharest. Ci vediamo anche lì a Bucharest. Quindi un saluto e contattate la Adelina o Ilaria.